Signori miei, siccome ieri volevate vedere questo video e io pure volevo vederlo, andiamoci a vedere adesso la vera storia di Germano Mosconi, noto giornalista del Veneto se non ho mai errato, non ricordo precisamente di quale zona del Veneto, ma lo ricordiamo per le sue bestemmie dette in fuorionda e che ricorderemo tutti perché sono diventati meme, puppate anche e clip storiche della tv, non posso dire pop italiana, diciamo regionale ecco, ora non so se veniva trasmesso a livello anche nazionale il canale dove lui faceva il TG, sinceramente questo non lo so, però andiamo a vedere, andiamo a vedere un po' il nostro germanino Mosconi, mamma mia, quanto mi manca, peccato che è morto, Chiudi quella porta lì per favore, va là Già iniziamo benissimo Chiudi quella porta di qui, dai Mi sono distratto, sentivo, mi sono distratto e sì, no adesso già sarà Il giornalismo italiano ha tanti volti, pensiamo ai grandi padri del nostro giornalismo, pensiamo ai figliacci, a Bocca, Montanelli, Scalfari, Fraiese, i mostri sacri, quelli intoccabili, quelli che ci hanno insegnato molto e ci hanno trasmesso anche Però lo sai che mi aspettavo un montaggio più alla Billy Foster o alla Poldo, non mi aspettavo una cosa del genere, tipo a TG5 speciale Che è un retaggio che non sempre, riusciamo a cogliere Ah, c'è un podcast Poi ci sono i volti magari un po' meno noti, un po' meno considerati, ma che sono molto importanti, le firme che leggiamo sui quotidiani, purtroppo sempre meno, perché lo sapete benissimo, in Italia sono tanti anni che si leggono sempre meno giornali Ma la musica sottofondo lo vogliamo mettere, diventa un po' soporifero sta voce Perché di più delle volte sacrificano tantissimo per consentire che una corretta informazione arrivi in edicola e poi al lettore, sempre che questo sia interessante In cinque giorni ha fatto 30k di visual Quelli che quasi mai fanno notizia, che magari trovano lo scoop della vita, però dopo restano lì Ci sono colleghi coraggiosi, ne abbiamo parlato nel video dedicato a Giancarlo Siani, che trovate dal canale Poi ci sono modi di fare informazione differente Certo c'è l'informazione partigiana, l'informazione di partito, l'informazione interessata, pelosa, l'informazione embedded, si sarebbe dire Ma non solo, c'è anche l'informazione che punta sul divertimento, sulla satira, sullo sberleffo Ne abbiamo parlato nel video dedicato alla vecchia rivista Il Male e poi con i ragazzi di Lercio, lo sport che fa notizia Bellissimo questo Lercio è il più grande canale di me Viva, viva, viva la figa Viva la figa, la dana dell'amor Viva, viva, viva la figa Viva la figa, il lino dell'amor Tu sei un pazzo Un collega che su malgrado è più conosciuto per Una questione di colore, per le sue espressioni Una questione di colore, di le bestemmie Meno male che ha messo soltanto quella clip perché il successivo era un porcone Io so memoria quel best off di bestemmie Se io trovo quello che mi ha fatto innervosire Che do un pugno a figa e spacco la testa Lo troverò quel deficiente, prima o dopo eh Ce l'avete chiesto in tanti il video di Germano Mosconi Complice i saluti di capodanno scorso E allora abbiamo deciso di accontentarvi Ah che 2012 è morto Non vi racconterò chiaramente di tutte le esplosioni di rabbia Provocate o meno all'interno del telegiornale In cui Mosconi lavorava e ha lavorato per tanti anni Quelle le conoscete Vi parlerò di un altro Mosconi Un Mosconi serio, preparato, professionale Un Mosconi che è stato un esempio per tantissimi giornalisti Soprattutto a Verona ed intorni Questo è il lato che non è mai uscito di Mosconi La città che ha amato La città di cui ha raccontato soprattutto le geste sportive Perché Germano Mosconi era un grande sportivo Praticava il tennis, anche con buoni risultati Va detto, amava il calcio Oltre alla palacanestro Ha raccontato assieme a un altro collega puliero Le geste dell'Ellas Verona Quell'Ellas che vince lo scudetto a sorpresa Bellissimo Degli anni 80, la favola giallo-blu del Verona Ha raccontato, anche se meno rispetto a un altro collega Questo in vita, che si chiama Mario Poli E che saluto con grande affetto Le gesta della scalicera Che negli anni 80 si affaccia al campionato di Serie A E poi vivrà quella bellissima avventura Fino alla conquista della Coppa Italia Della Supercoppa Italiana e della Coppa Kova Germano Mosconi è stato, prima di tutto Un maestro di giornalismo E sapete il perché? Vi racconto un po' come funziona la nostra professione Quando leggete la firma di uno di noi sui quotidiani Probabilmente non sapete che la stragrande maggioranza di quelle firme Al di là dei quotidiani nazionali Non è composta da redattori stipendiati Da dipendenti Sono collaboratori Sono i cosiddetti freelance Cioè sono dei professionisti Luigi, basta spammare lag che non c'è un lag Prestano la propria opera a quella testata Scrivono, scrivono di una determinata materia Scrivono a chiamata Attenzione, non a comando Non c'è nessuno che detta loro cosa scrivere Ma c'è dall'altra parte un capo cronista Un capo servizio che li chiama, li telefona Oppure oggi ci usa moltissimo Whatsapp E chiedono Siamo nell'era digitale Dietro il desk Un pezzo, un articolo Danno super giù l'argomento Le misure Cioè quanto righe Quante battute Quanti moduli Ogni quotidiano si regola un po' Secondo ciò che sono le regole interne E via Fare, produrre Ebbene oggi un articolo A seconda dei casi Si può scrivere in 30 minuti Ma potrebbe anche richiedere un'intera giornata Dipende da che tipo di articolo è Dalla lunghezza Dalla complessità Da quante persone bisogna sentire Se è una cronaca in presa diretta oppure no Ma l'invio è molto rapido Grazie a internet Ormai sono oltre 20 anni Che tutti i giornali d'Italia Si sono dotati di portali internet Una internet dedicata ai collaboratori Che caricano i propri pezzi I propri articoli In questi sistemi Da cui attingono le redazioni Per la ribaginazione Funziona così Oggi Ma quando Germano Mosconi Classe 1932 Lui ancora Caste penna addirittura Ma nemmeno si sa che cosa sia Neanche si prova a immaginare È il periodo Gli anni 60 In cui Il giornalismo Si fa in strada Lo si fa col taccuino In mano Camminando Consumando Le suole delle scarpe Lo si fa andando a prendere le notizie Strada per strada Vicolo per vicolo Casa per casa Oppure nello sport Andando Alle conferenze stampa Andando a intervistare A rompere le scatole Anche Ad allenatori Dirigenti Giocatori Alcuni lo fanno ancora tuttora Si fa così Si fa così Tanta pazienza Tanta abnegazione Tanto spirito di sacrificio Sì proprio come faccio il calone Proprio così Baffere a macchina Oppure A vedere quanti preservativi ci sono E da quel momento in avanti Chiamare Chiamare al telefono Dall'altra parte Thomas fa un'altra cosa in realtà Non va a intervistare Una categoria oggi scomparsa Non servono più Che doveva raccogliere I testi che arrivavano in audio Si dettava Si dettava il pezzo al telefono E credetemi L'ho fatto anch'io Quando qualche volta I sistemi informatici andavano in tilt Che bordello così E magari facevano scomparire i pezzi Mandati qualche ora prima Succede Ci si deve adattare Si andava più vicino Telefono a gettoni Si chiamava il numero E poi si cominciava a dettare Le parole più complesse O i cognomi Andavano sillabati E guai a dimenticare la ponteggiatura Ma quel giornalismo Che oggi verrebbe visto Come un giornalismo d'avventura Era molto efficace E piaceva Paceva a chi lo faceva E piaceva al lettore Così si è formato Germano Moscoli Come tantissimi altri come lui Ecco perché si incazzavola Era senza dei punti Senza le virgole Collaborando Prima con i quotidiani di Verona E poi oltre Come vedremo Era anche diventato A poco a poco Un volto Non più solo un nome E un cognome Su una pagina Perché dalla metà degli anni 70 In Italia Si affermano le televisioni private È un fenomeno Inizialmente pioneristico Ci si infila Nelle pieghe della legge Che prevede Il monopolio RAI Per la trasmissione Su base nazionale Ma a livello locale Basta acquistare La frequenza Mello pagare Allo Stato Il dovuto Per sfruttare Lo Stato Non è che fesso Registrare la testata Registrare poi anche Invece adesso che devi pagare Vai su Twitch Di fare la tua tv privata Che serve per la pubblicità Perché d'altro Delle televisioni locali Si basano sulla pubblicità E il gioco è fatto Il resto Si fa in studio Germano Mosconi Diventa un volto Un volto Un asciuto Riconosciuto Apprezzato Perché Perché entra Garbatamente Nelle case dei veronesi Attraverso la televisione Raccontando Raccontando la cronaca Raccontando ciò che Cade Nel telegiornale E i veronesi Cominciano a conoscerlo Ed apprezzarlo Ha un bello stile Pacato Elegante Tranquillo Indiretta Era pacato Questo che infonde Sicurezza Autorevolezza Sono Dotti che vengono apprezzate Anche da un altro Grande giornalista Di cui Non so quanti Ne abbia sentito parlare Si chiamava Giorgio Lago È morto ormai Da una ventina D'anni Ma è stato L'uomo Che ha rivoluzionato Il giornalismo Di provincia Giorgio Lago Da Castelfranco Veneto Viene nominato Dalla proprietà Da un gruppo Di industriali Locali Che hanno Acquistato Uno dei più Antichi giornali D'Italia Il Gazzettino Viene nominato È la direzione Ma la direzione Del Gazzettino Giorgio Lago Diventa Un punto di riferimento E sapete perché? Perché capisce due cose La prima Che occorre valorizzare Il lavoro Dei collaboratori La seconda Che chi Legge il giornale Vuole principalmente Due tipi di notizie Almeno in provincia La cronaca locale E lo sport E Giorgio Lago Giorgio Lago Dà queste informazioni In maniera Anche se adesso Ci aggiungiamo anche Un po' di cronaca rusa Un po' di gossip Un redattore Che sbaglia Che commette Un errore Di impaginazione Viene redarguito Viene messo A correggere boxe Per tre mesi E alla seconda volta Che ci ricasca Viene licenziato Questo perché Per Giorgio Lago Il nome della testata È tutto Non si può Rinunciare Alla qualità Non si sa ragione In quel periodo Germano Mosconi È un po' come Matteo HS Che vuole tutto preciso Attenzione Di pregio Perché il gazzettino Cresce nelle vendite Tira 160 170 mila copie Ogni giorno Quante volte devi spammare Il podcast Non ci frega un cazzo Del tuo podcast Del tuo libro Grazie Ogni 5 minuti C'è Rino Tommasi Ad esempio Che è uno dei più grandi giornalisti In tema di tennis E di box C'è Beppe Donazzano Grandissimo esperto Di motori Di Formula 1 Ci sono dei nomi Che non figurerebbero Alla gazzetta dello sport Alcuni di questi Abbandonano La collaborazione Con gazzetta Proprio per passare Al gazzettino Che a lunedì Esce con un inserto Si chiama Ogni sport Delle pagine Di color rosa Non è rosa Gazzetta Un rosa un po' più intenso Staccabile E che affronta Tutto lo sport Da quello nazionale Internazionale La Serie A di calcio La Formula 1 Le coppe Fino alle più basse Categorie provinciali Morale della favola In quegli anni A nord est La gazzetta dello sport Non vende E parliamo Di quello che all'epoca Era il giornale Più venduto d'Italia Che vendeva Un milione di copie al giorno E adesso invece Si emendano su Twitch Si portano su Twitch adesso Scrive Scrive Delle Las Verona Ne racconta le gesta Si vede già a livello A quella in video Una duplice attività Che poi Dopo l'addio di lago Al gazzettino Lo riporta Alla gazzetta dello sport Sempre come collaboratore Successivamente L'attività comincia A rallentare Perché Mosconi Classe 32 A un certo punto Va verso la pensione Ma non per questo Viene meno cercato Anzi La sua professionalità È valutata positivamente E effettivamente Ritenuta importante Tra il 96 e il 97 Germano Mosconi È tra gli opinionisti Della serie A di calcio Della Dora Tele più Quella che poi è diventata Sky La prima pay tv italiana Andando in pensione Quindi abbandonando La televisione Questa cosa non lo sapevo Abbandonando Varie collaborazioni Non finisce L'attività di Mosconi Che anzi Diventa Ospite saltuario Di alcune trasmissioni televisive Grazie alla sua competenza Diventa anche A detto stampa Delle società veronesi E decide anche A un certo punto Di fondare E dirigere Un periodico In lingua tedesca Il Gardasee Zeitung Che in tedesco Un periodico dedicato Ai tanti turisti tedeschi O comunque di lingua tedesca Che ogni anno Vengono a passare Diversi mesi In riva Al bellissimo Lago di Garda Questo era Germano Mosconi Poi è arrivato il resto Strano perché ha scelto il tedesco Arriva quello che Diviene noto Come fenomeno di internet Cioè la possibilità Della rete Di esaltare Una persona O per i meriti O per le manchevolezze Qualche suo vecchio Collega Ai tempi della televisione Decide di riversare In rete Alla fine del 2005 I vecchi fuori onda I tagli E ha fatto benissimo Capitano a tutti Capitano anche a me L'avete anche visto Qualche volta Giovanni Si diverte A inserire Le mie gaffe I miei proloqui I miei lapsus Al termine dei video Ci rende umani Grandissimo editor Però editor Impara a mettere Due musiche In sottofondo Ecco Mosconi Sì qualche sbaglio Lo faceva Correggeva Si aveva lavorato Con le parti Nel settore turistico Sapere il tedesco È obbligatorio Non lo sapevo Questa cosa Assolutamente Però Aveva difetto Forse perché Più vicino Si arrabbiava In maniera utente E Spronugliava E cedeva Nell'utilizzazione Ho capito che non è il canale Di musichette Però Il video deve essere Scorrevole A una Propia d'abbenaggine Occasionale Lo dice uno che Fa il video editing Per conto suo Per registrare Nel telegiornale Altre volte erano i colleghi A fargli degli scherzi Davvero atroci Sti scherzi erano bellissimi Incollati i fogli Che non riusciva a girare Quindi Lo faceva arrabbiare Ma che è che il mona Che Sbattia la porta Che chiude Urlando Aprire e chiudere le porte Facendole sbattere Quindi creando rumore Distraendolo Durante le registrazioni Ben sapendo Che si dovrebbe Osservare Ti ricordo pure Una volta che Sclerò Che passò un tizio Senza le maiuscole Senza i punti Oppure Gli toglievano la punteggiatura Dal gobbo Toglievano le maiuscole Tutto per farlo arrabbiare Per ridere Di quelle reazioni Violente Verbalmente Violente Peccato che quelle registrazioni Siano rimaste E da quel momento in avanti Germano Mosconi È diventato Suo malgrado La macchietta di internet L'uomo che passa la vita A imprecare Come hanno detto Alcuni suoi colleghi Ad esempio Lorenzo Roata Che oggi È a Rai Sport Era stato suo collega E fu proprio Roata A chiarire che In realtà Mosconi Sì Aveva magari un carattere Un po' fumantino Si arrabbiava Imprecava Ma non era esattamente Un uomo che ha passato L'intera vita A bestemmiare Assolutamente Sarebbe stato bello Anzi Aveva ricevuto diversi premi Proprio per la sua elegante Pacatezza Nel fornire l'informazione Mosconi non l'aveva presa bene Mentre nello stesso periodo Altri personaggi Sono diventati noti In rete Sempre per lo stesso motivo Per gli improperi Pensate Al benzinaio Lugaresi di Cesenatico O all'ex Bidello dell'Aquila Mario Magnotta Mosconi Non ha reagito bene Ha sporto denuncia Per quanto avvenuto Addirittura Per lui era Prima di tutto Di serietà professionale E questo fa capire Quanto Mosconi Si tenesse A quel valore Un valore che purtroppo È stato diluito nel tempo Germano Mosconi Se n'è andato Se n'è andato Il primo marzo Del 2012 Nello stesso giorno In cui Sono morte altre due persone Ah Nello stesso giorno Lucio Dalla E sfido Chiunque tra voi A non aver Almeno sentito parlare Almeno una volta Mosconi si è andato all'alba Non sapevo Dello stesso giorno Nel pomeriggio Muore un'altra persona Che conosceva Sia Dalla che Mosconi Si chiamava Enzo Lefebvre Era un grande manager In ambito del marketing E dello sport Oltre che mio caro amico Quel giorno È stato un giorno particolare Ma va detto una cosa Che se Ai funerali di Dalla C'era praticamente Conoscere tre persone Che muore lo stesso giorno Alla cerimonia Di commiato Laico Di Enzo Lefebvre C'erano Tante persone Tanti amici Venuti anche da volontà Uno alla volta Al funerale Di Germano Mosconi C'era di tutto C'erano I suoi amici I suoi parenti Gli ex colleghi Altri colleghi Che lo avevamo conosciuto appena C'erano tanti Ex spettatori di Telenuovo E non erano lì Per concedersi L'ultima risata Nei confronti Di un personaggio Diventato famoso Suo malgrado A causa di quei video Che trovate ancora oggi Le poesie di Mosconi Non me lo ricordavo Erano lì Per tributargli Un giusto omaggio Un omaggio A un giornalista Un giornalista Con la G maiuscola Un giornalista giornalista Uno di quelli Che aveva Attraversato Tutte le epoche Aveva attraversato L'epoca Del tappuino E delle camminate a piedi Ho capito Che poi si si intende Tra virgolette E poi L'affermazione del video E poi Suo malgrado L'epoca di internet E allora Chiudendo questo video Io stesso mi domando Il giornalismo italiano Oggi Non meriterebbe più Mosconi E non sto parlando Delle bestelle Sto parlando Di quella serietà Di quella puntualità Di quella pacatezza Che davano sicurezza Trasmettevano dei valori Allo spettatore O al lettore Il giornalismo italiano Avrebbe bisogno Di altri Giorgio Largo Professionisti seri Che mettevano Al primo posto La felicità La solidità Il giornalismo di adesso Vanno a intervistare Fedez Sotto il portone di casa Cioè dai Questo è giornalismo E la gente pure Che richiede queste notizie Perché E loro hanno messo Sul web tutto Ma facciamo le notizie serie Non ste cacate Non esiste più Il giornalismo di una volta Che noi seguivano Lo scoop Ad ogni costo Peggio ancora Il clickbaiting Che oggi È diventato una piaga Io credo di sé Credo che La costante diminuzione Delle vendite Dei quotidiani E quindi La costante diminuzione Dei lettori Si è colpa Soprattutto di noi giornalisti Della nostra categoria Che pensa di Inseguire Il senso dello scandalo O quel prurito Che a volte viene Intimamente Di voler conoscere La storiella Un po' Sporcacciona O un po' Borderline Pensando che tutto questo Si traduca in giornalismo Non lo è È Lo spettacolo Dello sbirciamento umano È il grande fratello È la volontà Di andare a guardare Bravissimo Ha detto una parola Bellissima Fanno i tuoi simili Ma non è La propria Detta come si deve E se non dai una notizia Il pubblico non ti segue La gente non ti legge Devi dare le notizie Devi dare un servizio Soprattutto quelle notizie Forse abbiamo dimenticato Cosa significhi dare un servizio Dare le notizie Sarebbe bene ritornare a farlo Tutti quanti Magari sacrificando qualcosina In termini di visualizzazioni O di follower Perché esiste anche questo Ma se diamo qualità Se diamo serietà Se diamo puntualità Trasmettiamo molto di più Che un semplice contenuto Che cose Che cose bellissime Che ha detto E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione E arrivederci Alle prossime edizioni Ha detto una delle cose più belle Che adesso si sono perse Nel giornalismo Davvero Wow Un video bellissimo Che ok E' abbastanza scorrevole Io sono pignolo Su queste cose Perché giustamente Ci ho messo le mani in pace Basta Se l'avesse visto Matteo HHS Averbe detto Più o meno Le stesse robe mia Sul video editing Però Comunque Ha detto delle cose bellissime Per quanto riguarda Il giornalismo di adesso Che Non è più quello di una volta E' semplicemente O gossip O notizie Di cronaca Che devono essere Un pochino ingigantite Oppure Devono inserire Che ne so Il ragazzino dell'internet Che Fa quella determinata cosa Che deve fare indire Ignari boomer Se no Non viene cliccato E deve essere proprio Specificato TikTok Social Questo e quest'altro Se no Non te cliccano Manco a pagare Non esiste più Il giornalismo Di una volta E ci ha Fottutamente ragione Non esiste più Non esiste più Non esiste più